Basta, siamo stufi di questa situazione. Non usa a mezzi termini lo chef stellato Gianfranco Vissani, affano da ieri sera per la costituzione del movimento apolitico Ristor Italia, di cui è presidente onorario. Il cuoco italiano, imprenditore e personaggio televisivo, è stato critico sulle scelte del governo e ha chiesto a gran voce più tutele e liquidità per il settore della ristorazione. Dopo lo sfogo sulla 7 nel programma Coffee Break, ha precisato oggi ai microfoni di Fano TV le sue richieste e le preoccupazioni dell'intera categoria. Ma io penso sicuramente che questi governativi non capiscono un c***o, scusate il termine, sono fuori di senno, non hanno capito. Gli stati membri dovrebbero essere, quando si chiamano stati membri, di coesione, di avere un contatto. Qui non si tratta che abbiamo fatto i cattivi, qui si tratta di una pandemia. La pandemia è quella che tutti quanti sono stati più di un mese che lì al Parlamento e al Senato non c'era nessuno. Allora noi, ma che volete da noi? Volete la m***a? Oggi avete aperto i mercatini, tutti questi ambulanti sono in mezzo alla m***a. Ma tutti, tutti, ristoranti che fate aprire, prima due metri, poi un metro, fate aprire, la gente non sa come si deve mettere. Arriva lì, ieri sera erano a mangiare sul ristorante e parlava col metro e le distanze. Ci mancherebbe che mangiamo pure con le mascherine, mangiamo con i guanti, ma non vi vergognate che state facendo. Per Vissani erano e sono tuttora essenziali i contributi a fondo perduto per riaprire i battenti e garantire la sicurezza di tutti. Oltre al danno poi è anche la beffa di rischiare sanzioni civili, penali e amministrative. Quattro ristoratori, moglie, marito e due figli, non avevano il computer che funzionava a Varese. Sono andati nel ristorante a vedere per fare scuola. Gli hanno fatto 1600 euro di multa. Ma siamo in mezzo alla via. Due ragazzi a Pavia si sono abbracciati, vent'anni, vent'anni. Erano tre mesi in si vedevano, abbracciati, manco abbracciati. Gli hanno fatto la multa. Quell'altro dell'autobus, della linea, aveva tirato giù la mascherina perché non ci si vedeva con l'occhiale. Gli facevano, gli sappannavano. Multato. Manolo Pedeco. L'ultimo appello dello chef Umbro è rivolto al Premier Conte. Guarda, dobbiamo scendere perché il Presidente Conte deve capire. Dal 13% del PIL siamo passati, abbiamo perso 9 punti. E 9 punti. Il danno lo faremo a settembre, ottobre. Ve ne accorgerete che cosa significa. Ci sono 8 milioni di persone che lavorano in questo entourage dell'alta cucina e della media cucina. E poi basta per cortesia. Perché se non ci saranno i piccoli, non ci sarete mai voi grandi. Dunque non rompete i coglioni. State con noi se volete stare. Se non andate a fare i furbi dove volete andare. L'Italia è una.